Quattro minuti di recupero per le speranze di attorno alle squadre e porta a casa i tre punti il lancio lungo di Grillo per Carrozza davanti a volta che sembra non averne più allora Carrozza può puntare il difensore, l'appoggio dietro, Damonte sul discatto, la Pane Rente e la Pane Rente, il Varese in vantaggio con l'Auris Damonte, l'appoggio di Carrozza e Damonte con il piatto mette dentro 1-0 dal Varese al primo minuto di recupero a lui di Ferrari, Sampdoria e Teo, Varese 1 Come si diceva Nicolò, bisogna mettere in condizione di andare uno contro uno ai dettagli che hanno rapidità e visione di gioco esattamente come Carrozza cercare di puntare in special modo Volta che aveva dimostrato già anche nel primo tempo di non essere assolutamente in partita e così la difesa più cerchiata si è disumita, 1-1 di Carrozza con Volta, l'appoggio per l'inserimento di Damonte il piattone a Bucale Romeno, 1-0 dal Varese che si meritava questo gol di questi tre punti